Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video ma soprattutto benvenuti a tutti i nuovi iscritti allora oggi vi farò vedere tutte le novità che porta appunto l'album 12 valido dal 10 settembre al 29 settembre del 2020 e praticamente andiamo subito con gli struccanti bifasici in questo catalogo avremo a 9,95€ la versione da 100ml e 200ml poi abbiamo come novità l'acqua floreale, il contorno occhi praticamente poi abbiamo i deodoranti a 3,95€ poi questo lo vedremo da pagina 64 avremo come in regalo un trattamento anti caduta in formato speciale praticamente su ciò che si andrà a acquistare poi da pagina 32 avremo in regalo il make up organizer a ogni 20€ di acquisto appunto da pagina 33 a pagina 55 poi abbiamo il mix match cioè una maschera viso e una per capelli appunto se si prende 1 e 1 si euro e 95 per pagina 8 e 9 quindi qui abbiamo tutti gli struccanti qui abbiamo i prezzi singolarmente poi abbiamo lo struccante per occhi sensibili e poi questo appunto il set struccante mini e maxi quindi struccante rapido occhi waterproof make up 100ml più 200ml a 9,95€ poi abbiamo appunto questa novità che l'acqua floreale lenitiva di fiordaliso va a tonificare e poi allora praticamente da utilizzare come lozione mattina e sera vaporizzandola su un dischetto di cotone picchiettandola su palpebre e su borse la texture nebulizzata e infrescante ravviva lo sguardo affaticato quindi ottima poi abbiamo il contorno occhi sempre della stessa linea idratante e anti borse a 12,95€ entrambi e poi abbiamo questa super offerta appunto del contorno occhi idratante più l'anti occhiali e correttore a 17,95€ questo album è bellissimo è bellissimo sono prezzi super convenienti per quanto riguarda questi prodotti della Yves Rocher che sono ottimi qui abbiamo le maschere viso le nuove uscite già da un bel po' di tempo più le maschere per capelli versione viaggio se si prendono singolarmente sono a 3,95€ prendendo una maschera viso e una per capelli si pagano 2 appunto 6,95€ poi abbiamo appunto la linea sebo-vegetal ideale per pelli da miste a grasse e quindi con le varie maschere e tutto questo ragazze per quanto riguarda la linea idra-vegetal è ottimissimo io poi tra l'altro il tutto il trattamento giorno l'unica cosa che non ho è questo poi per quanto riguarda ho anche il tonico ho anche l'esfoliante tutto questa adesso la maschera di idratazione intensa non la possiedo ma la prenderò poi abbiamo la linea camomilla selvatica bio per pelle sensibile quindi abbiamo crema detergente acqua micellare olio stuccante crema verde colettrice e diciamo un po' tutti i vari prodotti poi c'è la camomilla matricaria bio per il viso sempre per pelle sensibile qui abbiamo viso e corpo questa qua è molto era in offerta nell'album scorso ed è molto molto è ottimissima poi abbiamo qui le spugnette konjac per la pulizia del viso con il guanto struccante e dischetti struccanti questa abbiamo qui allora qui è la linea elixirgyness praticamente con per un effetto diciamo è per le prime rughe questa linea quindi la prima linea anti età effetto detox e quindi abbiamo tutti i suoi e qui abbiamo appunto la linea anti anti global la la rich cream per pelli diciamo ancora più per le rughe e poi l'abbiamo la lifting vegetal che è anche questa è un'uscita del 2020 ed è ottimissima veramente poi abbiamo la serum vegetal con tutte le lusue allora eccoci qua stiamo a pagina 32 praticamente in regalo il make up organizzerò ogni 20 euro di acquisto in prodotti e accessori maggiaggi poi c'è il contorno occhi idratante più l'antiocchiaio colettore 17,95 che vi ho fatto vedere prima qui abbiamo i vari fondotinta stick illuminante e il duo illuminante e qui abbiamo la terra abbronzante qui e poi abbiamo i vari ombretti i pennelli questo è il pennello appunto che ho regalato alla mia amica ed è il pennello kabuki retraibile questo molto versatile poi qui abbiamo le matite per le sopracciglia ancora altri pennelli abbiamo poi questo set sopracciglia perfette quindi il mascara sopracciglia più la stilo sopracciglia tenuta 12 ore a 14 euro e 95 ed è veramente ottimo qui abbiamo i vari mascara io ho questo ed è veramente mi ci trovo molto bene qui abbiamo poi le varie matite per gli occhi poi il kajal che è ottimissimo e qui poi abbiamo ancora le matite stilo waterproof e l'eyeliner qui le vale con varie colorazioni di ombretto con estratti di riso ma sappiamo già di che cosa stiamo parlando per quanto riguarda l'ey crochet la qualità dei prodotti è veramente ottima qui abbiamo il matite glossi a 9 euro e 95 e poi i vari rossetti adesso che arrivano qui sono a base di olio di camelia per rigenerare le labbra poi olio di ciliegia poi abbiamo il primer per le labbra qui sempre olio di ciliegia qui abbiamo poi per quanto riguarda e questi sono i gloss e poi qui abbiamo la lima il solvente per le unghie la base rinforzante appunto per le unghie il top coat e i vari smaltini e i vari smaltini go green qui abbiamo andiamo poi con l'evidence diciamo e i vari profumini che comunque in questo album sono a prezzi normali non ci sono allora poi cambio di stagione frena la caduta dei capelli per ogni due prodotti capelli acquistati da pagina 65 a 75 un trattamento anti caduta in formato speciale a scelta quindi o così o così questo ragazze io l'ho provato è veramente ottimo e penso che lo riordinerò poi appunto abbiamo i vari sciampi e balsami lupino bianco per esempio per l'anti caduta questo veramente ottimo ha ottimo azioni anticrespo aiuta comunque a lisciare i capelli a tenerli più in ordine poi insomma poi abbiamo olio di jojoba e questo sarebbe il bagno all'olio di fiori molti uso poi il siero fortificante antirottura di cui ha 9,95€ poi abbiamo il balsamo botanico che era protagonista dell'altro album e poi abbiamo qui gli altri sciampi e balsami appunto delle varie linee trattamento d'aggiorno le varie maschere è tutto polpa di acai è una super novità poi abbiamo appunto le creme mani abbiamo il balsamo mani antifreddo che è adesso che arriverà appunto la stagione questo ve lo straconsiglio perché è ottimissimo da quando utilizzo quello non ho più problemi di screpolature alle mani poi abbiamo qui la linea per i piedi e la linea dei gommage corpo che sono appena usciti cioè sono usciti dallo scorso album poi abbiamo vari latte corpo anche qui per snellire la silhouette appunto io l'ho appena preso con l'album 11 e vedremo come va poi qui abbiamo i vari complementi alimentari quindi il definine perdita di peso il vitamine soleil il definine SOS data così definine riducente drenante poi abbiamo qui la linea monoi isolari da dove siamo ancora a settembre ci stanno ancora e poi qui abbiamo per il settore igiene e benessere abbiamo i vari concentrati quindi gel dolcia concentrati ai vari gusti poi abbiamo la vaniglia bourbon e quindi abbiamo l'olio doccia il bagno doccia il latte corpo l'acqua profumata corpo e capelli poi abbiamo qui sempre vaniglia bourbon tutta la linea vaniglia bourbon tutta la linea di noce di cocco la linea di mango e coriandolo olive petit grain lavanda mora e lampone menta piperita amam argan e rosa una doccia sensoriale poi questo è per doccia sensoriale e poi abbiamo ancora altri bagno doccia che sono comunque da 400 ml a 3,95 l'uno e qui abbiamo i nostri balsami labbra a 2,50 l'uno e con i vari gusti e poi qui abbiamo i nostri deodoranti appunto per delicatezza per freschezza e per purezza a 3,95 l'uno e sono delle novità e poi qui appunto un set da 3 gel igienizzante mani a 9,95 e niente questo è tutto per quando riguarda album 12 poi magari più in là vi faccio vedere appunto le anteprime di natale 1 e 2 per quanto riguarda i tra di noi questo non lo so se farvelo vedere perché vi spoilererei proprio tutto perché già l'uno è valido dal 10 al 29 settembre ed è destinato diciamo a noi consigliere di bellezza appunto se dei set li vogliamo prendere e poi abbiamo questo con tutte le anteprime in novità assoluta e questo è valido dal 30 settembre al 29 ottobre e già vedetevi spoiler già questo e poi l'anteprima natale 2 che è valido dal 30 settembre al 21 ottobre magari in un prossimo video ditemi se appunto le volete ve le mostro e vi faccio un video a parte io vi lascio il link della pagina di facebook appunto iveroshet by filo che nel caso comunque se vi interessa qualcosa comunque ci sentiamo in privato anche su facebook o comunque vi lascio il mio numero noi ci vediamo alla prossima mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per ricevere notifiche di quando usciranno i nuovi video io vi saluto ci vediamo al prossimo ciao